Felicissimo Dino Beganovic che punta alla vittoria come ha detto Camilla Ronchi anche in gara 3 questa è la fase della prima partenza, anzi la partenza con Beganovic mini poi Birman che viene attaccato da Jack Crawford che poi guadagnerà la terza posizione questa è la gran botta di Kirill Small qui è Francesco Pizzi che passa un Oliver Birman che aveva in precedenza sbagliato la curva delle acque minerali qui c'è un po' di caos tra Birman, Rosso, Filippo Eugran e Deliquanti adesso ci sarà l'incidente tra Dexter Passaterson che va a centrare l'incolpevole Sebastian Hoggard spedendolo contro il muro della Tosa, questo è l'incidente che coinvolge Francesco Pizzi, Johnny Edgar e Filippo Eugran e poi la gran botta di Sebastian Montoya ha cambiato traiettoria a Joshua Durksen mentre Montoya era al suo interno macchina distrutta quindi ci sarà molto da lavorare, non sappiamo se i ragazzi della prima faranno a tempo a sistemare la scocca della Tosa